Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta integrale alla carrettiera. Il tempo di preparazione è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono pomodori piccadilli, pasta integrale, sale, aglio, olio, basilico ed acqua. Andiamo in via alla ricetta! Mettere nel boccano i pomodori e farli frullare per 5 secondi a velocità 5. Adesso cuocerli per 25 minuti. Temperatura paroma, velocità 1. Ora aggiungiamo l'olio, il sale, l'aglio e il basilico. E facciamo cucitare per 5 minuti. Baroma, antiorario, velocità 1. Ora aggiungiamo l'acqua. e facciamo cuocere 5 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità 1. Aggiungiamo la pasta. E cuciniamo con il tempo indicato nella confezione. Nel nostro caso 11 minuti. Nel nostro caso 11 minuti. Pasta integrale alla carrettiera. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!